Stefano Ceccanti, la transizione è quasi finita, come risolvere nel 2016 i problemi aperti 70 anni prima? Il problema però il Parlamento sta per votare in via definitiva la riforma costituzionale su cui gli elettori saranno chiamati a votare nel mese di ottobre. I due elementi chiave sono che ci si gioca l'elezione del Governo solo su una Camera perché solo la Camera dei Deputati darà la fiducia e quindi non ci sarà più il rischio di due maggioranze contraddittorie e poi si ridurrà il conflitto centro-periferia perché le regioni e i sindaci saranno rappresentati nel nuovo Senato. In molti però dicono che questa riforma è una quasi riforma, in effetti le cose restano come prima? Beh, non restano come prima perché se scatta questa riforma non c'è più il problema di avere la fiducia sia della Camera che del Senato quindi chi vince l'elezione alla Camera governa. E l'altro punto è che la Corte oggi è sommessa, la Corte Costituzionale, fa un 50% del suo lavoro nel dirimere i conflitti tra centro e periferia, la periferia sarà rappresentata nel Senato e quindi questo conflitto si sgonfierà. Lei è convinto che l'iter legislativo sarà più snello? L'iter legislativo sarà senz'altro più snello perché come in tutti i bicameralismi europei in ultima analisi sulla gran parte delle leggi prevarrà la Camera dei Deputati. Ma in questo momento lei come vede il quadro politico in Italia, così in senso generale? Guardi, in quadro politico noi abbiamo una situazione di emergenza che è sorta in questa legislatura dove le elezioni tra Camera e Senato avevano dato dei risultati tra di loro contraddittori e il governo fa giustamente quello che può con questi vincoli. Però contemporaneamente la maggioranza si è assunto il compito di varare una riforma costituzionale appunto perché queste difficoltà non riesplodono nella prossima legislatura. Il Movimento 5 Stelle è accreditato con una buona percentuale di elettori. È merito loro o questa crescita è più per demerito della destra e della sinistra che sono piuttosto divise e litigiose? No, il Movimento 5 Stelle ha preso voti soprattutto per reazione che le forze politiche negli anni precedenti avevano promesso le riforme che non sono state in grado di fare. E quindi si è determinato uno spazio per il trato di protesta che si è concentrato soprattutto nel Movimento 5 Stelle. Quindi ha manifestato queste difficoltà. Se queste difficoltà trovano delle soluzioni come in questa riforma costituzionale vedremo se il Movimento 5 Stelle avrà la capacità di sopravvivere a queste riforme e di diventare uno dei perni del futuro schieramento politico oppure si sgonfierà. Questo è un problema non estremamente legato alle riforme ma alle capacità politiche di ciascuno. Lei in prospettivo lo vede un po' di sereno? Io penso che se noi riusciamo a fare questo passaggio storico di modernizzazione della nostra democrazia il clima si può rassenenare.